Sono Riccardo Taroni, vengo da Forlì, Italia. La mia moto è in Africa Twin Rally, il mio numero di gara è il 75. Io mi ci sto trovando veramente molto bene. In certi percorsi molto tecnici, pietrosi, si paga un po' il peso nei canali, nello stretto, nel lento. Ma se hai una buona capacità di guida è una moto che comunque si districa bene anche in situazioni del genere. La tappa è andata bene, c'era qualche waypoint un po' complicato da prendere, ma noi abbiamo fatto tutto giusto. Sinceramente non pensavo fosse così dura e devo dire che stiamo correndo con l'asciutto. Non oso immaginare se tutto questo avvenisse con terreno pesante, con terreno fangoso o pioggia, come già è successo nelle altre edizioni. Sicuramente sarebbe tutto più complicato. La parte della gara è la gara, la luce è fuori. Non è possibile che continui con l'asciutto, quindi devo perdere per questo anno. Sousi dimenticare, ma ci possono passare. cose cose possono succedere Grazie a tutti Grazie a tutti